raga siamo arrivati e ci ha andato questo e buonasera a tutti ragazzi bentornati nel nostro canale e con un nuovo video come state intanto oggi non sono con fra ma con giuria perché andremo a milano adesso partiremo e vi faremo vedere un po le cose di milano cosa andiamo a vedere e poi alla sera andremo in live di x factor ok ragazzi siamo arrivati a milano e adesso andiamo a fare un giro in centro e poi vi facciamo un po vedere vi facciamo un po Raga noi abbiamo finito il giro per Milano E adesso andiamo a mangiare qualcosa E vedrete dopo cosa abbiamo preso Allora raga noi abbiamo finito di mangiare Allora io al mio dog era buonissimo E comunque do un 8 e mezzo 9 Io ho preso l'hamburger 8 e mezzo Dopo vi metteremo anche la lista delle cose che abbiamo preso Un bacione ciao Bene raga non si vede niente Ma siamo arrivati qua a X Factor Adesso vi facciamo vedere Tutto un casino Speriamo di riuscire a entrare E niente Top Raga siamo arrivati E ci han dato questo E ci han dato che abbiamo preso Bene raga Noi siamo tornati a casa ieri sera E ci siamo appena svegliate Non so se si vede dalla nostra faccia E niente è stata una bellissima esperienza Tu com'è stata? Bello? Ci siamo divertite un sacco Bene E niente il video finisce qua Il dibattito tra Morgan e Dargent E niente Non so cosa avete visto voi in tv Non so se ci avrete visto Andate a vedere la puntata Il quarto live E niente ci vediamo in un prossimo video Ciao